Italians do it better, anche questa settimana il nostro appuntamento mezz'ora al giorno fa benissimo dedicato alla musica italiana e io vi dico la verità sono un po' emozionata perché è da tempo che aspettavo quest'ospite e quest'ospite finalmente qui allarghiamo la visuale Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori Felice di essere qui, ciao a tutti, grazie mille Mi raccomando tutti i giorni per tutta la settimana, Italians do it better